Bene ed ecco uno scontro che Tenkashitra ha dimenticato Kui, no Vegeta vs Kui Mentre Goku mangia Vegeta e Tor Eh, sfida il suo rivale Kui Anche se sta per essere massacrato Kui bra Ed ecco il piscialetto E' ecco Vegeta che sta per massacrarlo Oh, liscio Che cosa succede? Vegeta è diventato troppo potente E ora guarda un vero cannone garlic finale E' un vero cannone garlic finale No E' continuo a farlo da l'altro vicino Cannone garlic 1005 secondi lo sta massacrando Adesso voglio utilizzare la mossa che ho usato Vegeta Prociderlo Nel cartoon nintendo Fuochi del male Do Ti ho fregato Con bel pugno sullo stomaco Addio Aaaaaaaah Vegeta sta facendo uno scrimento gigantesco Per fare Per 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 caricare l'aura Polver K Anzi no Ho pulverizzato Simple tricks Ittik Ittik Grazie.